ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul canale di jored prima di proseguire con il video vi invito se vi va di mettere like al video e iscrivervi al canale per avere altri aggiornamenti iniziamo sono quasi sette mesi dalla prima puntata e appena 24 ore alla finale chi vincerà il grande fratello nella casa più spiata d'italia sono rimasti in pochi ma è chiaro a tutti che la vittoria se la contenderanno le due vere protagoniste di questa edizione beatrice luzzi e perla battiero saranno loro due a scontrarsi al televoto finale che proclamerà il vincitore rosy beatrice massimiliano simona e perla e forse si aggiungerà sergio alla rosa dei finalisti di questa edizione in attesa della diretta della finale scopriamo insieme cosa dicono i sondaggi e chi sarà il vincitore prescelto perla e beatrice sono le super finaliste secondo i sondaggi scopriamo insieme la favorita con le carte quindi carte e voi siete d'accordo con il possibile risultato chi vincerà questa edizione scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento ho concluso questo piccolo video news un grosso abbraccio alla prossima news